Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Martina e oggi vi ho portato un nuovo vlogmas Come state? Spero tutto bene, oggi un video particolare perché andrò a truccare il mio ragazzo Siamo pronti, questa è la sistemazione, sono tutti i trucchi che andrò a utilizzare, l'altra paletta è qua Buon giorno a tutti! Allora, direi di partire subito, andiamo a fare la base Voilà, base fatta, abbiamo messo solo, fatti vedere, abbiamo solo messo un po' di bronzer, guardate che carino, super colorato Ok, e adesso vado a mettergli il farber rosa Devo guardare là Anche se lui comunque ha il viso bello scavato, quindi ci sta No, mi devo riparare la mandina Sì Il prossimo mese è l'operazione Magari non tutta la cera addosso, no? Ma che cera, scusami C'era qua Un conto di nuovo Ammigliamo questo bel visino So, perciglia Ammigliamo questo bel visino Ammigliamo questo bel visino La mia sopracciglia è ovviamente stato un po' più scura anche se lui è tanto biondo ovviamente Grazie a tutti. Ok, siamo quasi arrivati al termine e io ho fatto il mio meglio perché lui non sta fermo. Comunque non le metto il mascara, non le faccio questa pazzia. Allora, sei contento? Facci vedere intanto. Vai avanti, avanti, avanti. Avanti, avanti devi andare. Chiudi l'occhio. Bello, gira un po'. Gira un po' di qua. Bellissimo. Bellissimo. Questa è matta? No, allora, chi mi dà l'altro. Anche l'altro matta. Ma non si vede. Viene tutto male perché hai labbra secca. Siamo giunti al termine di questo bellissimo video. Spero che il risultato vi sia piaciuto e vi piace, amore. E' molto carino, adesso poi ovviamente ve lo farò vedere meglio da più vicino. E ci vediamo per un prossimo video. Un post su Instagram, sul mio profilo, dillo. Ok, mi raccomando, seguiteci sui nostri Instagram, vi lascio tutto qua anche TikTok, mi raccomando, seguiteci, è importantissimo. Vi mandiamo un bacio, lasciate like al video. Se vi è piaciuto oltretutto commentate e iscrivetevi al canale.